sananda sulla soglia del grande risveglio di james mcconnell 12 agosto 2023 sono sananda sono venuto a stare con voi in questo momento per portarvi il ricordo il ricordo che molti di voi hanno dimenticato nel corso di questa vita e di quelle precedenti ora molti di voi si stanno risvegliando e si risvegliano sempre di più a capire veramente chi siete e alla connessione di ognuno di voi ed è per questo che sono qui a ricordarvi che molti molti di voi sono venuti con me quando abbiamo lasciato il grande conclave e siamo venuti sulla terra molte molte vite fa voi tutti voi che mi avete accompagnato come sananda e poi in seguito come yeshua essendo qui con me anche in quei tempi e la connessione che abbiamo tutti insieme e quelli di voi che sono venuti con me sono ancora in quella missione insieme a noi avete assunto la missione di essere coloro che portano la luce nel mondo per portare la verità a molti molti che stanno aspettando quella verità che la chiedono a gran voce perché sono stanchi molti sono stanchi della vecchia espressione dell'illusione di terza dimensione anche se non sanno cosa sia l'illusione della terza dimensione ne sono stanchi ne hanno abbastanza vogliono chiedono a gran voce come dico io la verità e come avete sentito molte volte la verità vi renderà davvero liberi vi renderà liberi come individui vi renderà liberi come collettività perché siete destinati a essere liberi siete sempre stati destinati a essere liberi avete solo partecipato a un esperimento per un periodo più lungo di quello che inizialmente avevate previsto ma ora siete qui al culmine all'approssimarsi della fine di tutto questo state arrivando a quel punto in cui ora molte cose stanno uscendo dall'ombra e la luce sta rivelando quelle ombre la verità sta rivelando le falsità o l'occultamento della verità per tanto tempo ora tutto sta venendo avanti e voi ognuno di voi lo avete anticipato non solo in questa vita ma per molte vite avete anticipato e vi siete preparati per questo momento ed eccovi ora proprio qui sulla soglia la soglia del grande risveglio che sta per avere luogo anche al di là di ciò che avete visto fino a questo momento sta per arrivare un grande risveglio in cui ci saranno cambiamenti epocali all'interno dell'illusione tridimensionale che la distruggeranno una volta per tutte e voi siete proprio lì pronti ad andare avanti con ciascuna delle vostre missioni individuali alcuni di voi le hanno già intraprese ma molto altro deve ancora venire perché questo è il punto questo è il momento in cui tutto si riunisce in un'unica entità lo vedrete lo sentirete lo sentirete in molti tipi di espressioni diverse e da molte fonti diverse che la verità si sta facendo avanti quindi preparatevi a questo vi è già stato detto da questa fonte o attraverso questa fonte così come molte altre fonti hanno portato avanti questo discorso preparatevi all'impatto sta arrivando quindi permettetevi di essere lì in quel momento e sappiate in quel momento che siete uno e siete l'unico sono sananda e vi lascio ora in pace amore e unità e che continuiate ad andare avanti per il resto di questa vita questa vita che è la vita culminante quella per la quale vi siete tutti preparati e che state preparando per il prossimo grande cambiamento in arrivo traduzione voce marina traduzione voce marina